In Oberasco le principali criticità si erano venute a creare nel momento in cui l'azienda stava crescendo molto bene grazie a un impatto molto forte dei nostri prodotti sul mercato e allora abbiamo avuto un incremento sia dei volumi sia dei prodotti e in questo contesto ci siamo dovuti affidare alla tecnologia finché tutto il nostro processo che aveva una gestione molto più manuale è un contesto di software tecnologicamente più avanzato in cui ci sono diversi moduli dalle previsioni di vendita alla schedulazione delle produzioni che crea efficienza all'interno di tutta la filiera. Più nel dettaglio i vantaggi sono stati quello di ridurre i costi all'interno del flusso produttivo e eliminare gli sprechi e poi ad avere da un lato un livello di servizio al cliente molto elevato e dall'altro una riduzione delle immobilizzazioni finanziarie dovute a stocchi di magazzino a volte molto elevati che adesso invece si sono molto più contenuti. Grazie a tutti.